E' vero che l'auto elettrica salverà il mondo? No, l'auto elettrica di per sé non salverà il mondo, è un obiettivo interessante, probabilmente fra un po' di anni dobbiamo andare verso l'elettrico, ma dobbiamo renderci conto che c'è una transizione lunga e soprattutto mi piace ricordare che l'auto elettrica deve accompagnarsi a un cambio di modello di mobilità, oggi noi abbiamo un modello di mobilità tradizionale basato su tantissime auto termiche di proprietà privata poco usate, modello ormai che sta mostrando un po' l'accordo, dobbiamo evolvere verso modelli più efficienti, modelli più efficienti sono essenzialmente un po' meno auto più usate e a quel punto possono essere elettriche ma dovranno anche essere autonome, quindi un mix di tecnologie che va portato avanti contemporaneamente, mentre l'affermazione di in brevissimo tempo trasformiamo tutte le auto termiche degli italiani in auto elettriche è un obiettivo irragionevole e insostenibile, ma insostenibile nel vero senso della parola, nel senso che sarebbe una forzatura che poi non corrisponderebbe a una vera sostenibilità ambientale. Ma sembra comunque che il Consiglio d'Europa abbia emanato delle nuove direttive che potrebbero mettere un pericolo la libertà individuale di movimento? Allora diciamo, adesso non voglio dare giudizi politici, però diciamo c'è stato un balzio in avanti sull'elettrificazione come se fosse la panacea di ottimali, quindi addirittura l'Inghilterra aveva dichiarato che dal 2030, che è veramente domani, sarebbero state escluse dalla vendita tutte le auto termiche, quindi un intervento veramente draconiano, l'ha già modificato, quindi il 2030 è diventato il 2025, l'Europa sta parlando di 2035, ma questi provvedimenti stanno un po' scricchiolando, stanno un po' scricchiolando perché stanno come dire, stanno venendo al pettine un po' di nodi e il nodo che viene al pettine è un po' la contraddizione tra la forzatura dell'auto elettrica e il privato cittadino che deve comprare un'auto elettrica. Oggi ho provato a raccontarlo, nel raccontare la nostra ricerca, il problema dell'auto elettrica o l'opportunità dell'auto elettrica che per essere sostenibili deve fare tantissima strada in un anno ma con percorrenze giornaliere non troppo grandi, ecco queste due cose si sposano molto male soprattutto per quanto riguarda il privato cittadino, sono pochi cittadini che hanno questa combinazione che è la combinazione giusta dell'auto elettrica, quindi se non si ha questa combinazione l'auto elettrica non è la tecnologia migliore, non è la tecnologia più sostenibile e quindi dobbiamo portare il modello di mobilità verso un modello dove si ha contemporaneamente tanto utilizzo della macchina nel corso dell'anno ma giornalmente percorrenze non troppo grosse e necessariamente questo modello di condivisione delle auto. Questo modello sta arrivando, ovviamente non è un modello che necessariamente piace agli stakeholder tradizionali perché implica una rivoluzione, in ogni rivoluzione gli incumbent come si dice non sono quelli che necessariamente vincono, quindi ovviamente c'è un po' di attrito verso questo nuovo modello, però ci arriveremo, sono convinto ci arriveremo perché poi la razionalità delle scelte alla fine vince e quindi si arriverà poi a andare in questa direzione. Non sono però preoccupato della negazione della libertà di movimento, sono più preoccupato di interventi come dire molto semplificativi sull'abolizione di tecnologie, quindi io sono veramente per la neutralità tecnologica, individuiamo gli obiettivi, crediamoci sono importanti e poi perseguiamo l'obiettivo con neutralità tecnologica, questo è il modo giusto e più razionale di ottenere in modo sano degli obiettivi, non indicando la tecnologia ma indicando l'obiettivo. Molti sostengono che con le sue tesi lei si dimostra un po' un visionario, cioè qualcuno che non guarda al presente prossimo ma al futuro. Quanto è vero questo? Noi abbiamo le nostre città che hanno tutte le strade in base ad automobili che sono ferme circa il 95% della loro vita, ha senso fare dei garage, ha senso a cambiare le infrastrutture o il futuro ci porta a considerare qualcosa di diverso da quello che vediamo? Ora il futuro deve, ci obbliga a considerare qualcosa di diverso, detto ciò mi piace pensare di essere un visionario nel senso che provo a guardare avanti però mi piace anche essere concreto, quindi la cosa migliore è guardare avanti ma non inciampare nel sasso che è davanti ai piedi perché diciamo non guardo troppo in avanti, quindi bisogna bilanciare questi due aspetti. Quindi guardando in avanti sicuramente alcune cose non hanno più senso, non hanno più senso perché evolveremo in un modello con relativamente poche auto, piccole, elettriche, condivise autonome, quindi dobbiamo prepararci verso un mondo di questo tipo. D'altra parte è un mondo che non arriva nel giro di pochi anni, noi dobbiamo accompagnarci in modo progressivo e graduale, in modo razionale verso questa transizione. Quello che ho raccontato oggi in realtà non fa parte dell'aspetto visionario ma della concretezza di dire oggi abbiamo un parco circolante termico, realisticamente resterà termico ancora lungo, gestiamolo al meglio perseguendo obiettivi di sostenibilità. Quindi è un obiettivo molto pragmatico che ha una visione davanti ma però guarda anche davanti al naso per non inciampare. Grazie al professor Sergio Savaresi, un visionario con i piedi per terra.